Buongiorno a tutti, siamo ai primi di giugno, 5 oggi è il 5, è l'anniversario della battaglia di Midway o delle Midway come dir si voglia e quindi mi è sembrato interessante proporvi la recensione del film del 76 quello recente io onestamente non l'ho ancora visto quindi non ho modo di potervi fare un confronto però prometto che prima o poi lo vedrò e quindi farò un video anche su quello più recente ma parliamo appunto di quello del 76 per la regia di Jack Smigt, non so come si pronunci un film, un colossal sotto ogni punto di vista considerate che il grosso del finanziamento di questa pellicola non fu tanto spesa per degli effetti speciali materiali ma quanto per rendere colorate alcune pellicole precedenti di documentari e anche di film infatti questa pellicola è molto interessante perché ha un po' cannibalizzato tanti altri prodotti cinematografici a partire dai documentari proprio del 42 la battaglia di Midway che era un documentario di John Ford tra l'altro a cui ha partecipato tanto anche la voce Harry Fonda Harry Fonda che appunto partecipa anche a questo film nella parte dell'ammiraglio Nimitz quindi è anche interessante comprendere l'evoluzione di una storia di una idea cinematografica attraverso una evoluzione anche delle versioni precedenti tra l'altro Harry Fonda ha partecipato anche al film Prima Vittoria di Otto Preminger degli anni metà degli anni 50 quindi in questo senso vi è anche un ritorno di alcuni personaggi ovviamente con ruoli diversi attraverso appunto un percorso dei film storici o film di guerra la pellicola del 76 è molto anche interessante per un apporto tecnologico se la maggior parte dei fondi sono stati appunto dedicati alla trasformazione alla rendere colorate pellicola precedente tra l'altro è debitore anche di tantissimi film effettivi, finzioni come per esempio Tora 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 addirittura la battaglia d'Inghilterra quella di Hamilton, le lunghe giorni delle acole quindi in questo senso vi fu veramente un sistema di cannibalizzazione impressionante in cui appunto si cercò per rendere ancora più realistica sia appunto documentari ma pellicole anche precedenti in questo senso fu una scelta poi per carità discutibile in quel periodo soprattutto tanti film ebbero a prendere a prestito scene o appunto sequenze di altre pellico abbiamo avuto modo di parlare di la squadrina di Falchi Rossi in cui la prima parte è presa para para da operazione cruise quindi in questo senso non era una cosa molto molto rara che ciò potesse avvenire un'altra parte rara del film è l'utilizzo di un sistema audio implementato quindi ci furono sostanzialmente due livelli di audio per rendere ancora più efficace da parte del pubblico la percezione dei rumori di tutta la tensione acustica che poteva essere percepita durante le fasi del film tant'è che questo sistema venne utilizzato per tre pellicole sole tra cui appunto la battaglia Midway e prevedeva l'installazione nelle sane cinematografiche di casse aggiuntive appunto per rendere ancora più coinvolgente l'apporto acustico tra l'altro parlando di acustica non si può non citare le musiche di John Williams quindi che danno anche un valore aggiunto alla qualità anche tecnica del film il cast è un cast veramente stellare a partire appunto da Harry Fonda, Charlton Heston, Glenn Ford, James Coburn Robert... mi sfugge vabbè comunque veramente anche da parte giapponese abbiamo Toshiro Mifune Pat... oggi con un nome non mi ricordo quello che fa sostanzialmente il maestro Miyagi in Karate Kid quindi Pattamura, una cosa del genere e questo in questo senso è veramente un valore aggiunto all'apporto anche recitativo appunto dove due mondi, quello giapponese e quello americano si incontravano per trattare una battaglia decisiva appunto era già stato fatto in parte contro la doratoria quindi da questo punto di vista vi era anche la convergenza di due mondi sociali ma anche cinematografici per la realizzazione di pellicole importanti appunto in quel contesto specifico e per quanto riguarda la storia la storia è abbastanza reale cioè abbastanza attinente al vero, ai fatti narrati quindi anche la stessa evoluzione della narrazione appunto segue grosso modo quello che avvenne effettivamente vi sono ovviamente anche dei personaggi inventati o quantomeno funzionali o semi inventati funzionali all'evoluzione stessa della narrazione per cercare di snellire se no appunto sarebbe stato molto sia pesante per il pubblico ma anche probabilmente difficoltoso nella comprensione se si fosse andato troppo nel dettaglio in un'analisi degli avvenimenti appunto troppo specifica e se delle critiche sono state fatte all'epoca o in seguito soprattutto legato all'aspetto tecnico delle azioni belliche prettamente quindi visto e consigliato che la ricostruzione sia prettamente nelle navi che poi nelle zone un po' più articolate vennero girate in California vennero girate in Florida vennero girate sulla porta aerea Lexington appunto una di quelle appunto che era reduce della seconda guerra mondiale quindi si cercò in qualche modo di rendere sempre più plausibile verosimile l'apporto però appunto vi sono degli elementi che inevitabilmente vanno un po' a cozzare con la realtà specifica appunto dei bombardamenti dei decolli dell'approvvigionamento degli aerei quindi in questo senso si notano delle licenze inevitabili proprio per la difficoltà poi a ricostruire tante tante situazioni e questo poi lo si fa vedere anche sul fatto che appunto erano state prese delle scene di altri contesti o scene precedenti quindi in questo senso si andò un po' ad assemblare nel montaggio un po' come veniva quindi diciamo anche delle ambientazioni che potevano non essere necessariamente della zona delle mito e magari appunto di altre zone del Pacifico quindi per cercare addirittura di altre realtà anche realtà successiva la seconda guerra mondiale però che sembravano quantomeno molto assimilabili a quelle della seconda guerra mondiale in questo appunto il film denota una certa cura una certa cura anche per l'apporto che ha dato alla cultura americana è stato tendenzialmente ben apprezzato il film ha avuto anche un riscontro economico tra l'altro negli anni a seguire vi sono state diverse versioni della pellicola sono state allungate la versione quella che è andata in onda al cinema sono state fatte le versioni più lunghe anche in occasione nel 92 in occasione del 50esimo anniversario della battaglia quindi in questo senso vi è stata una certa cura anche nella preservazione nella diffusione del film quindi per dare una certa dinamicità alle narrazioni quindi cercare di rendere il film più fruibile anche in base a delle nuove sensibilità quindi il film ripeto è un film molto interessante che ha segnato un po' un'epoca quindi poi i personaggi ripeto gli attori sono molto soliti tra l'altro il certo Nesson aveva collaborato un paio d'anni prima con lo stesso regista in Air Force 75 quindi c'era anche una certa continuità nella nella sinergia tra maestranze tra appunto attori quindi tutti di un certo livello anche se molti in realtà poi hanno delle parti abbastanza abbastanza secondarie a James Coburn o altri si riducono a cammei quindi però danno comunque il senso di complessità un po' il sostanzialmente poi è il il ciclo di quei film colossal che venivano fatti in ambito bellico ma non solo a partire dal giorno più lungo in cui vi era una grande quantità di star che potessero in qualche modo diciamo coinvolgere il pubblico rendere il pubblico interessato alle storie anche se poi alla fine dicevano poche battute o il loro ruolo era limitato a una situazione di contorno quindi questo è essenzialmente il film io vi ringrazio ancora per l'attenzione che avete rivolto al mio video vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima ciao